Buonasera, prima di iniziare il webinar Celtra-Ceram, perfetta combinazione tra analogico e digitale, alcune comunicazioni di servizio. Sul vostro monitor è presente un box nel quale potrete digitare le domande che desiderate rivolgere al relatore e alle quali verrà data risposta al termine della presentazione. Tali domande compariranno in forma anonima. Nel corso della presentazione potreste sentire in sottofondo delle frasi in inglese. Qualora accadesse, si tratterà di comunicazioni di servizio tra gli organizzatori del webinar. In caso di problemi audio o video durante la presentazione, vi consigliamo di ricaricare la pagina premendo F5 oppure uscire e rientrare nella piattaforma chiudendo qualsiasi altro programma e di scollegare altri dispositivi non indispensabili. Sappiamo bene che in questo periodo la rete è sotto stress, con un traffico dati elevato. Ad ogni modo, nei prossimi giorni vi invieremo una comunicazione contenente il link con la registrazione del webinar. Questo webinar è tenuto dall'odontotecnico Lanfranco Santocchi. Il signor Santocchi inizia la sua professione di odontotecnico negli anni Ottanta, è cotitolare del laboratorio Savident a Roma, tiene corsi e conferenze in Italia e all'estero dei primi anni 90, è autore di numerosi articoli pubblicati sulle più importanti riviste nazionali e internazionali del settore odontoiatrico. Da più di dieci anni è relatore per Desply Sirona ed ha pertanto contribuito personalmente allo sviluppo di alcuni materiali estetici per il laboratorio. Nel 2019 ha ricevuto il premio Ferra Mosca con Fartigianato come miglior relatore dell'anno ed è stato riconosciuto insieme ad altri odontotecnici come divulgatore dell'odontotecnica italiana all'estero. Lascio ora la parola all'odontotecnico Lanfranco Santocchi. Grazie Francesca per la presentazione. Quello che mi preoccupa è quando mi danno, inizio a dare i premi alla professione. Vuol dire che sto invecchiando e purtroppo mi dispiace perché ancora non sono riuscito a fare il dente che ho sempre sognato di realizzare. E ancora sono in crescita, quindi spero che abbia ancora un po' di tempo per migliorarmi. In questo webinar voglio condividere con voi l'esperienza che ho fatto in questi ultimi vent'anni sia sulla scelta del materiale estetico, sia sulle pressate e sia sulla zirconia. Diciamo che oggi come materiali estetici ne troviamo tantissimi in commercio. La scelta sicuramente va fatta, questo è un consiglio che posso dare ai ragazzi, ai giovani, molto attenta, ci sono moltissimi, tutti i materiali vanno bene, sono all'altezza, ma c'è qualche materiale che oggi onestamente fa la differenza. La differenza che cosa vuol dire secondo me? La differenza è questa, un materiale estetico oggi, e scusate se poi voglio dirvi un'altra cosa che è importante, che le scelte che facciamo oggi sicuramente influenzeranno il nostro futuro, quindi stiamo molto attenti perché siamo ripartiti e dobbiamo ripartire col piede giusto, quindi un materiale estetico deve avere, secondo il mio modesto parere, una minima contrazione. Questa è la caratteristica principale che deve avere un materiale estetico. E soprattutto se guardate questa immagine, prima di mettere lo smalto, io vado a mettere su tutta la zona occlusale una massa che si chiama Power Ventina 5, che è una massa orange. E vedete il risultato che si ottiene dopo la cottura? Che dove c'è la massima depressione nel dente, quindi nel centro fossa, prendiamo la peccetta e la portiamo, allora, se voi vedete nel centro fossa, in questo punto, dove c'è la massima depressione, fuoriesce l'orange. Quindi abbiamo un aspetto molto simile al dente naturale. La cosa importante che nelle ceramiche dovete osservare è che quando noi mettiamo una massa, fine cottura, fine lavoro, dobbiamo ritrovarla. Nella maggior parte delle ceramiche che oggi sono in commercio, talvolta facciamo fatica a riconoscere la massa che abbiamo messo inizialmente, dopo l'ultima cottura. Sicuramente la minima contrazione non è sui posteriori, dove c'è attenzione, ma l'attenzione maggiore, come sappiamo tutti quanti, noi la dedichiamo al gruppo frontale, dove lì la partita diventa più difficile. Quindi se ho una ceramica che si contrae moltissimo, io dovrò fare ripetute cotture per finalizzare il lavoro. Quindi perderò moltissimo tempo e oggi sappiamo tutti quanti, e soprattutto domani, che il tempo è denaro. Quindi dobbiamo stare molto attenti a questa caratteristica. e qui vedete, è un lavoro fatto, una prima cottura, di due centrali, e guardate, io già ho realizzato le zone di contatto in prima cottura, vedete la contazione è proprio minima. Questi lavori che vedrete in questa webinar, sono lavori fatti in un corso su paziente, di un giorno, quindi la mattina arriviamo, in pronta ottica, il modello con la stampante 3D, finalizziamo il lavoro, facciamo la prova, e la sera il paziente ha il lavoro finito in bocca, terminato, e il giorno dopo va a cementarlo. Questi lavori li ho fatti con un clinico che è molto bravo, con cui condivido moltissimi lavori, perché ci piace, siamo appassionati, come tutti quanti noi, di questo lavoro, che è il Lior Angelovicic. Quindi, questa è una prima cottura, poi, altro caso, quattro frontali, sempre una prima cottura, vedete che la contazione è proprio minima, e poi, devo avere un'ampia scelta, io preferisco la scala 3D Master, quindi abbiamo, con la ceramica che utilizzo oggi io, che è la Seltra Serum, il materiale estetico, abbiamo la possibilità di lavorare con la scala vita, e abbiamo la possibilità di lavorare anche con la scala 3D Master. Quindi, vedete, questa corona fatta, in, un attimo solo, allora, questa corona fatta, col Seltra, press, utilizzo la 3D Master quando ho tantissimi colori, e quindi, vado con semplicità e facilità, a avere una certezza matematica, che il lavoro esce dal laboratorio, e non ritorna più. Questa è una nostra chiave importantissima. Altro aspetto importante del materiale estetico, qui è una prova di due centrali, vedete, un centrale inserito con la saliva, come assume subito un aspetto naturale. Perché? Perché la ceramica è luminosa, la ceramica, il materiale estetico che dovete, che dobbiamo utilizzare, deve essere luminoso, non deve essere opaco, quindi, anche se, come potete vedere, come si nota, il colore del centrale è leggermente più chiaro, io i centrali, li realizzo sempre, parto sempre con una massa B2, perché ritengo che il centrale sia il dente più chiaro, che abbiamo in bocca, anche se il colore non è esatto, armonizza in maniera naturale, il lavoro fatto da noi, con un prodotto che è luminoso. l'altro è luminoso. I altri quattro frontali, e qui possiamo vedere, la luminosità del materiale, perché abbiamo un lavoro fatto, da un collega, il premolare, vedete com'è abbastanza opaco, e guardate invece il laterale e i centrali, come sono luminosi, pure se il colore non è esatto, perché l'obiettivo oggi, e soprattutto l'obiettivo del domani, sarà quello, che il lavoro viene fatto velocemente, rapidamente, e non rientra più in laboratorio. E questo è l'obiettivo che, si deve prefiggere, un conto tecnico, domani, è quello che il lavoro avvia, velocemente, e viene realizzato, in maniera, diciamo, decente. come vi ho detto, il materiale estetico è importante, va utilizzato, soltanto un materiale, per la, c'è il trapressa, quindi per la pressata, per la zirconia, e per il disilicato. Quindi, questo materiale viene utilizzato, sia per la pressata, che per la zirconia. Parlando di zirconia, faccio una breve storia, perché l'ho vissuta in prima persona, la zirconia è un materiale, diciamo, giovane, nel nostro settore, perché ha, dai 15 ai 20 anni, e questo materiale, diciamo, all'inizio, io l'ho iniziato a lavorare, io mi ricordo che il mio socio, è andato a fare il corso, Paolo è andato alla Defradent, a fare il corso sulla zirconia, nel 2000, nel 2000, quindi noi abbiamo iniziato a lavorare, con la zirconia, nel 2000, nel 2001, era un materiale che, diciamo, che ha fatto, ci prese subito, perché? Perché era un materiale bianco, noi eravamo abituati, nel 2000, si faceva moltissimo oro ceramica, quindi lavoravamo, la maggior parte dei laboratori, a livello mondiale, utilizzava il metallo, con la ceramica, questo rivoluzionò completamente, il settore, questo materiale, la zirconia, qui vedete, queste erano delle prove, fatte, con metallo, e capite perfettamente, che il metallo, a livello del colletto, se il tessuto, che, diciamo, circonda il metallo, non è abbastanza, spesso, il metallo, va a pigmentare, quindi, se noi, vogliamo parlare di estetica, un tessuto pigmentato, grigio, non è estetica, anche se facciamo un buon lavoro, ma il nostro lavoro, sarà ininfluente, perché, perché, quella pigmentazione, del tessuto, renderà il nostro lavoro, insufficiente, non estetico, quindi, il problema che avevamo noi, prima del 2000, era questo, infatti, noi abbiamo fatto, la vedete alla fine, io ho fatto una corona, in metallo ceramica, e una corona, in zirconia, e qui, voi vedete, cosa succede, quando utilizziamo, quando abbiamo uno spessore, del tessuto, sottile, come diventa, il lavoro, antiestetico, abbiamo fatto, poi, qui vedete, invece, qui c'è, una prospettiva, di un tessuto, molto spesso, qui possiamo lavorare, sia sul metallo, sul zirconia, possiamo scegliere noi, il materiale, senza che vada, influenzare l'estetica, perché ricordatevi, che l'estetica, noi possiamo fare, un bellissimo dente, ma se, il tessuto, non è, diciamo, giusto, come colore, il nostro lavoro, sarà, non estetico, qui, è la corona, che abbiamo fatto, invece, con la zirconia, vedete, come è cambiato, come diventa, tutto, più, diciamo, estetico, quindi, la zirconia, ha rivoluzionato, negli anni, nei primi anni, del 2000, ha rivoluzionato, l'estetica, tutti quanti noi, abbiamo, sposato, e lavorato, diciamo, nuovo materiale, entusiasti, qui vediamo, sempre, una metallo ceramica, e vedete, il tessuto, come è pigmentato, in questo punto, in questo punto, e guardate, invece, dall'altra foto, in questa zona, come il tessuto, risponde all'estetica, che vogliamo noi, è, ha il colore naturale, quindi, tutti entusiasti, del lavoro, questo è un lavoro, fatto, eh, un po' di tempo fa, vedete, come il passaggio, tra l'estetica rosa, e l'estetica bianca, è naturale, mi ricordo sempre, che all'inizio, c'era chi diceva, bisognava sabbiare, c'è chi diceva, c'erano due diverse filosofie, sabbiare, o non sabbiare, io, l'ho sempre sabbiato, l'ho sempre sabbiato, e questi erano, i primi lavori, fatti da dei colleghi, in Zirconia, vedete, il materiale era opaco, la ceramica, il materiale estetico, che veniva, diciamo, messo, per stratificazione, era, non rispondeva, ai requisiti estetici, che vogliamo oggi noi, e poi, il problema era, delle rotture della Zirconia, perché, perché come ogni materiale nuovo, noi, non sapevamo, come utilizzarlo, oggi, oggi sappiamo, come utilizzare, questo materiale, dobbiamo stare attenti, al gradiente termico, alla sinterizzazione, del materiale, perché più è grande, e più c'è tempo, deve stare in forno, sia in forno per sinterizzare, sia in forno per ceramica, se voi, immaginate, che, un, un materiale, fatto, che pesa più di 3 grammi, una toronto, deve avere 25, minuti di salita, di ingrediente di salita, 25 gradi, immaginate, che io, quando faccio questa tipologia di lavoro, faccio partire, il forno per ceramica, a 250 gradi, 25 gradi di salita, e lo faccio riaprire, con l'apertura lenta, a 250 gradi, quindi, capite, che questo materiale, va trattato, con molta calma, con molta calma, e se avete visto, la conferenza di Gallocchio, l'ha spiegato moltissimo, Cercè l'ha spiegato bene, come va trattato, e come deve essere trattato, la zirconia, quindi, i primi lavori fatti, in zirconia, avevamo una zirconia, come avete visto, bianca, e, la prima cosa, questa è la prova, che vedete in alto, a destra, questa è la prova, e la prova che si faceva, era proprio il passaggio, tra l'estetica rosa, e quella bianca, e vedete come è, abbastanza naturale, e qui sono, è il centrale, finito, per uscire un attimo, dal discorso della zirconia, un consiglio per i ragazzi, quando fate un centrale, o quando fate un gruppo frontale, i due centrali, la lunghezza naturale, del centrale, deve sfiorare, la zona ancisale, il bagno e asciuga, del labbro inferiore, questa zona, determina la lunghezza esatta, del centrale, diciamo che, negli primi anni 2000, avevamo una zirconia bianca, base, poi siamo, diciamo, hanno iniziato a uscire, sono iniziate a uscire, delle zirconie, nel 2015, 2012, diciamo, un po' più traslucenti, quindi potremmo, invece di realizzare, una stratificazione completa, potremmo realizzare, una stratificazione, parziale, quindi, la dentina, e la zirconia, perché erano traslucenti, sono traslucenti, la zirconia che utilizziamo oggi, e andavamo soltanto a, diciamo, stratificare la parte incisale, e questo, è quello, che si riusciva a realizzare, fino ad arrivare ai tempi, attuali, dove utilizziamo il multilayer, il multilayer, io lo utilizzo, pochissimo per stratificazione, preferisco, pitturarlo, quando, quando, quando ho un colore, semplice in bocca, quando ho una tre, proprio da scala, una due, una tre e mezzo, preferisco fare, il multilayer, adesso, voglio aprire una parentesi, tra il, il digitale, e l'analogico, e, tanti di noi, hanno, sposato una filosofia, chi ha sposato, l'analogico, e la porta avanti, e chi ha sposato invece il digitale, ed è fiero della scelta che ha fatto, io ritengo che, queste due, ben venga la tecnologia, per fortuna, e qui è la dimostrazione, in questa immagine, che la tecnologia serve, perché? Perché velocizza le fasi, il flusso di lavoro, che è importantissimo per noi, ma è anche importante, conoscere, la stratificazione, l'analogico, quindi, secondo il mio modesto parere, la tecnologia si sposa, perfettamente, oggi, e soprattutto domani, con l'analogico, quando vado in giro, spesse volte, mi fanno le domande, i colleghi, come faccio, a trovare nuovi clienti, qui c'è una cosa, molto semplice, che ha fatto, che ha realizzato, Denspray Sirona, che cosa ha fatto? Ha fatto, ha realizzato una piattaforma, dove, il clinico, che utilizza, l'impronta ottica, non fa altro, che collegarsi, su questa piattaforma, vedere il primo laboratorio, che è vicino, e mandare il file, per realizzare il lavoro, ancora oggi, noi andiamo a cercare, nuovi clienti, ancora oggi, noi, acquistiamo materiali estetici, acquistiamo macchinari, senza però, una documentazione, vera e propria, noi ricordiamoci, è vero che siamo, artigiani, anzi, eravamo artigiani, ma oggi, siamo imprenditori, e l'imprenditore, non lascia nulla al caso, questa piattaforma, io lavoro con questa piattaforma, ho 4, 5 dentisti, che mi inviano, il file, dell'impronta ottica, io realizzo il lavoro, lo mando, e onestamente, li ho visti, una, due, tre volte, capite che, diventa, un, ottimo, diventa, un bel, per il laboratorio, diventa, acquisire, nuovi clienti, senza andare in giro, ti facilita, la gestione, del laboratorio, e ti facilita, anche il futuro, questa, è sempre, una, esperienza, che andiamo a condividere, con i ragazzi, della tecnologia, di Desplai, Sirona, è una pagina web, fatta da, ideata da, Massimo Melli, e da Giuseppe Orelli, che condividiamo, tutti quanti noi, qui ci siamo noi, tre, dell'analogico, e i ragazzi, della tecnologia, ci scambiamo, ci interfacciamo, facciamo corsi, loro ci trasferiscono, dei dati a noi, e noi trasferiamo, la nostra esperienza, a loro, quindi, io ritengo opportuno, che ci sia, questa fusione, tra, analogico, e digitale, che sia, questa fusione, per il bene di tutti, anche perché, poi io ritengo, eh, altra cosa importante, è quella che io, eh, utilizzo la tecnologia, ma preferisco, modellare, gli elementi, che realizzo io, li scansiono, e poi faccio fare, alla macchina, non prendo, l'elemento, dalla biblioteca, perché, perché, onestamente, non hanno, un aspetto naturale, e siccome io, voglio, avvicinarmi, ancora non ci sono riuscito, e sto ancora, in crescita, voglio avvicinarmi, all'effetto naturale, dalla biblioteca, non riesco, a trovare, un elemento, che assomigli, al dente naturale, il dente naturale, ragazzi, è abbastanza semplice, quelli che abbiamo, nelle biblioteche, di tutta, la tecnologia, che oggi è in commercio, sono denti, troppo lavorati, sono denti, troppo finti, il dente naturale, è semplice, non è così, complicato, come, ce lo vogliono raccontare, e questo, come vi dicevo prima, il multi-layer, io lo utilizzo, sulla, soltanto per pittura, questo, è un centrale, realizzato, multi-layer, pitturato, e a proposito di pittura, noi abbiamo, dei colori, che si chiamano, gli universal stain, che sono colori, che si possono utilizzare, su tutti i materiali estetici, che abbiamo noi, in laboratorio, quindi, possiamo utilizzarli, su metallo ceramica, su prettao, su zirconio, su, di silicato, su silicato, quindi, un unico colore, per tanti materiali estetici, e qui voglio aprire, una piccola parentesi, per fare un po' di chiarezza, su questa tabella, questa tabella, l'ho fatta, l'ho realizzata io, mi ha aiutato, il maestro, Bebbi Spina, e io ho messo il nome, di Bebbi Spina, perché, perché oltre tutto, ad essere un amico, era un maestro, e pensavo di onorarlo, con questa cosa, per il lavoro, che ha svolto, per il lavoro, che ha fatto, su questi supercolori, questi supercolori, non sono di Bebbi Spina, questi supercolori, sono della Desply Sirona, soltanto, che le miscele, che abbiamo fatto, mi ha aiutato, perché, perché se parliamo di colore, non posso che prendere, come riferimento, il maestro, Bebbi Spina, ma sono colori, della Desply, questi colori, come vengono utilizzati, è molto semplice, noi abbiamo, come in tutti i supercolori, che si trovano in commercio, oggi abbiamo, la scala, A, B, C e D, che sono, i Bodi S1, S2, S3, S4, S0, sono per i colori chiari, quindi, questa scala, abbiamo preso, qui faccio un esempio, molto, veloce, velocemente, ho preso, il Bodi S1, che rappresenta, la scala A, ho fatto, una miscela, di due parti, di Bodi S1, una parte, di Bodi S2, con una parte, di olive, ho miscelato, queste tre masse, e ho ottenuto, questo, questo, se vedete, è il Bodi S1, che ho preso, dal, dal, dal cofanetto, e l'ho miscelato, vedete, come è leggermente, cambiato, come è leggermente, cambiato, come si è avvicinato, un po' di più, alla scala A, poi, che cosa abbiamo fatto, il maestro, mi ha aiutato, a fare, il grigio complesso, il marrone, e il marrone neutro, grazie a questi due, colori, e vado a fare, una miscela, con la stessa quantità, di grigio complesso, e di marrone neutro, e ottengo, con certezza, matematica, la 1, la 2, la 3, il B2, il B3, il B4, il B5, il B6, più aumento, questi due colori, grigio complesso, e il marrone neutro, e più intensifico, il colore, ho la certezza, matematica, che se utilizzo questo, facilmente, e soprattutto, velocemente, ottengo, il colore, che ho scelto, che ha scelto il medico, il clinico, questo è l'esempio, che, abbiamo fatto, la 1, l'abbiamo fatto diventare, a 3, e questa è la scala, della 3, vedete, facilmente, si passa, da un colore, chiaro, a un colore, leggermente, più scuro, quindi, abbiamo la certezza, matematica, che otteniamo, il colore, che ha scelto, il clinico, abbiamo, una massa, che è fluorescente, ma è veramente, fluorescente, soprattutto, quando vado a fare, lavorare, sullo zirconio, mi serve, una massa, che non vada, a ingligire, quello che ho fatto io, che fa, che faccia passare, la luce, come passa, nel dente naturale, e questa massa, che è l'i-flu, vedete, è veramente fluorescente, e questo è quello che si ottiene, vedete come è luminoso, questa, diciamo, glasur, che sta qui, è di una, nota casa, che fa, estetica, vedete, com'è scura, com'è grigia, quindi, se utilizziamo questa, sicuramente, andiamo ad abbassare, il valore, dei nostri denti, c'è il traseram, la, il materiale estetico, che utilizzo, eh, vi ho fatto vedere, le caratteristiche, che aveva, perché ho scelto, questo materiale, perché poi, onestamente, è vero, che io collaboro, con Desply Sirona, ma, io sono un punto tecnico, ho il laboratorio, e il laboratorio, deve, fare produzione, come vi ho detto prima, dobbiamo essere veloci, il lavoro, deve uscire, non deve più rientrare, se vogliamo guadagnare, e se vogliamo essere imprenditori seri, quindi, il materiale, che scelgo, è il materiale, che utilizzo, nel mio laboratorio, perché sono convinto, di quel materiale, è un basso punto di fusione, la casa, la dà a 7,70, come cottura finale, io devo dire, che sulla Zirconia, vado anche, a 7,90, 800, sul Seltra, o sul disilicato, 7,90, 7,80, faccio con il cotto, quindi, alzo di 15 gradi, la cottura finale, abbiamo, dei cofanetti, perché, se utilizziamo, un materiale estetico, noi siamo abituati, ad avere, tantissime masse, nei cofanetti, e tante volte, il più delle volte, tante masse, ne conosciamo sempre, le solite, quindi, abbiamo, dei cofanetti, che sono ridotti, ci sono pochissime masse, una di queste masse, è la dentina opaca, che vedete qui, che io la utilizzo, soltanto quando, non sul Seltra, ma la utilizzo, sulla Zirconia, soltanto per coprire, la dentina opaca, è una dentina, che ha un'opacità, maggiore, del 25%, della dentina, quindi, che quando la utilizzo, quando voglio coprire, qualche cosa, quando non voglio, far arrivare, la luce, su qualcosa, che mi dà fastidio, che mi danneggia, quindi, metto dentina opaca, la dentina opaca, la utilizzo, solamente, sulla Zirconia, poi, invece, con il Seltra, non utilizzo, dentina opaca, quando voglio fare, una stratificazione, diciamo, completa, quando voglio, un'estetica, una vera estetica, quando provo a fare, un lavoro, altamente estetico, utilizzo, diciamo, che nel mio laboratorio, il 60% dei lavori, vengono fatti, su pressata, il 30% su Zirconio, e il 10% in metallo, quando voglio, un'estetica, bella, quando voglio, raggiungere, un bello obiettivo, quindi, quando voglio, realizzare, un bel dente, io presso, l'MO1, e lo vado, a stratificare, presso, rettifico, la pressata, passo, la gomma, come ultima fase, è importante, questo passaggio, sulla pressata, perché, tanti, girando, non ancora, non fanno, la power file, la power file, dopo che aver passato, la gomma, prima di, mettere il colore, o di stratificare, va fatta, sempre, la power file, a che cosa, serve la power file, la power file, serve a, sigillare, il reticolo cristallino, pensate, che, il Seltra, come durezza, megapascale, è 540, e oltre, quindi, con questa cottura, io vado a sigillare, questo reticolo cristallino, e qui, possiamo vedere, la differenza, tra, il, silicato, e il disilicato, che sono, due materiali, completamente, diversi, il silicato, è fatto, in macro struttura, in micro struttura, scusate, il disilicato, in macro struttura, che cosa, vuol dire, che abbiamo, nel silicato, micro cristalli, che sono, delle sfere, che cosa, fanno queste sfere, in parole povere, anche perché, io non sono, un biologo, un chimico, però, queste sfere, che cosa, fanno, nel momento, della pressata, rotolando, tra di loro, creano, una superficie, compatta, mentre, nel disilicato, che è una macro struttura, quindi, sono, grossi micro cristalli, ecco, che cosa, avviene, avviene, una struttura, che non è compatta, e sappiamo tutti, la difficoltà, che abbiamo avuto, e che abbiamo, per chi utilizza ancora, il disilicato, di lucidare, questo materiale, è proprio, dettata da questo, da questi cristalli, e soprattutto, guardate la luce, come, non passa, nel disilicato, e come diventa, tutto leggermente, grigio, mentre, guardate, in questa foto, come la luce passa, e come illumina, perché, uno, diciamo, dove, noi abbiamo, maggiore difficoltà, se parliamo di estetica, che è proprio il passaggio, tra l'estetica rosa, e quella bianca, dove abbiamo poco spazio, dove c'è sempre poco spazio, e quindi, lì, noi, andiamo in sofferenza, se, però, abbiamo un materiale, che ha questi, queste caratteristiche, quindi, microcristalli, quindi, la luce gioca, come gioca, del dente naturale, quindi, rende tutto, molto più semplice, guardate, la compattezza, che ha il materiale, che questa, è molto simile, al dente naturale, e questa compattezza, la troviamo, con facilità, non dobbiamo, lavorarci sopra, e questo è il bello, di questo materiale, che con semplicità, otteniamo, un buon risultato, a livello estetico, sempre, apposta, io utilizzo, il 60%, delle mie lavorazioni, in laboratorio, oggi, le faccio, con questo materiale, questo, è, un caso, abbiamo fatto, un centrale, vedete, realizzato, in MO1, la struttura, è stratificato, completamente, questa è la prova, che abbiamo fatto, e guardate, come reagisce, in maniera, naturale, è normale, non è perfetto, ma questi sono, tutti i lavori, fatti, in un giorno, in un corso, quindi, ci sono, visto, tanti amici, che hanno partecipato, a questo corso, quindi, possono testimoniare, e se io, non ho, un materiale, che risponde, in maniera, perfetta, a quello, che cerco io, vado in fatica, faccio fatica, a realizzare, un lavoro del genere, questo, questo, è, diciamo, il lavoro, terminato, prima, della cementazione, la prova, che abbiamo fatto, poi, abbiamo, le dentine, altro aspetto, da non trascurare, perché, prima, di scegliere, un materiale estetico, dobbiamo, conoscere, dobbiamo, provarlo, e soprattutto, ci dobbiamo fare, tante domande, le dentine, che abbiamo, con Seltra Serum, sono, otticamente, come scritto qui, bilanciate, e hanno, un croma, una fluorescenza, e un valore, che cosa vuol dire? Vuol dire, che se, il valore, hanno un valore diverso, la 1, ha un valore diverso, dalla 2, un colore chiaro, non può essere, non può essere grigio, come un colore scuro, che sarà, leggermente, più grigio, una fluorescenza, che è calibrata, abbiamo fatto, questo centrale, vedete la stratificazione, e guardate, il centrale, che è, una 2, e guardate, il laterale, che è più scuro, come, riflette il grigio, quindi, una dentina, a 1, a 2, non può essere, fluorescente, come una dentina, a 4, la dentina, a 4, sarà, meno fluorescente, la dentina a 1, è più fluorescente, perché la fluorescenza, sapete che cos'è, è luminosità, è il bianco, che riflette, quindi, più, più, il dente, il colore è chiaro, e più è fluorescente, e questa, è il Serta Serum, ha, la fluorescenza, calibrata, per ogni massa, è importante, quando parliamo, di colori, chiari, e domani, si faranno, molti, solo, secondo me, lavori, con colori chiari, se parliamo, di frontali, ha diversi effetti, dentinali, i die, che sono nove, che potete vedere, su questa scala, sono diversi colori, che io utilizzo, sia nelle dentine, vado a tagliare, questi colori, nelle dentine, e sia negli smatti, per intensificarli, hanno, diciamo, il bello, di queste masse, che, non sono, il colore, è calibrato, quindi, quando io le vado, ad aggiungere, nel 90% dei casi, stanno sempre bene, non vanno, non sono troppo forti, come, diciamo, come colore, e poi abbiamo, siccome la zirconia, come sappiamo tutti, non è fluorescente, abbiamo sei masse, che si chiamano, le power dentine, che sono masse, cromatiche e fluorescenti, che vedrete più avanti, queste masse fluorescenti, rendono, io vado a fare il wash, sulla zirconia, sempre, con queste masse, per rendere, il materiale, fluorescente, e soprattutto, quando, il clinico, non abbassa, il moncone, quindi, ho un moncone alto, a livello incisale, io, per ottenere, un buon risultato, per ottenere, un effetto di profondità, perché, abbiamo detto, che la zona critica, è il colletto, il passaggio, tra l'estetica rosa, e quella bianca, ma abbiamo, un'altra zona critica, nei frontali, che è quella incisale, quindi, se io voglio ottenere, un effetto di profondità, incisalmente, laddove non ho spazio, devo, per forza, già nel wash, preparare, il sottofondo, per lo smalto, e utilizzo, la dentina di E3, che è questa, che vedete, che è un grigio, e la vado a mettere, nella zona incisale, e guardate, già come la zirconia, come la zirconia, assume un aspetto, luminoso, soltanto, con poca massa, questa, è la stratificazione, iniziale, che vado a fare, sempre, al colletto, vado a mettere sempre, questo centrale, quello che avete visto, sulla fluorescenza, il grigio, vado a mettere, siccome è un colore, a due, vado a mettere, una power dentina a due, che è un colore chiaro, al colletto, in questa zona, in tutta questa zona, poi ricopro, la power dentina, con un effetto, enamel 3, che è una massa, traslucita, quindi vado a coprire, perfettamente, la, power dentina, vado a mettere, come vi ho detto prima, il, il D e 3, che è un, diciamo, un effetto dentinale, grigio, per preparare il sottofondo, per lo smalto, di copro, poi, vedrete un po' più avanti, di dentina, il PD, e l'effetto enamel 3, e ottengo, questo risultato, guardate il passaggio, pur avendo, pochissimo spazio, in questa zona, come è naturale, il passaggio, tra l'estetica rosa, e l'estetica bianca, e questo, è quello che vi dicevo, di copro, la power dentina, l'effetto enamel 3, con la 2, di dentina, e poi, vado a realizzare, i mammelloni, o le guglie, i mammelloni, e le guglie, li utilizzo, li realizzo sempre, con, una power dentina, utilizzo diversi colori, le power dentine, come vi ho detto prima, sono 6, da, quella chiara, a quella, più scura, quindi, non utilizzo mai, lo stesso colore, ma vado a creare, dei colori, leggermente, differenti, da di loro, per ottenere questo, se voi vedete, questa è centrale, la prova che abbiamo fatto, queste sono, le power dentine, sono 6, e questi sono, i mammelloni, che avete visto adesso, cotti, e facciamo la prova estetica, perché vogliamo ottenere, un movimento incisale, un movimento incisale, che cosa vuol dire, vuol dire questo, che noi lavoriamo, in stratificazione, su un piatto incisale, che ha lo stesso, che è, lo stesso piano, se vogliamo ottenere, un effetto naturale, quindi un movimento, dei mammelloni, movimento dei mammelloni, vuol dire, più interno, e più esterno, sicuramente, io andrò a mettere, il colore, se voglio far vedere, il mammellone, più esterno, più in superficie, metterò un colore scuro, se voglio far vedere, il mammellone, pur avendo, essendo sullo stesso piano, più in profondità, andrò a mettere, un mammellone, una power dentina, chiara, quindi che cosa ottengo, stesso piano, ma con effetti, di profondità diversi, soltanto, variando il colore, delle power dentine, abbiamo gli effetti, enamel, smalto, che sono, io utilizzo, sono, sei, e li utilizzo, diciamo, sempre, il bello di questo materiale, è che abbiamo pochissime masse, quindi posso utilizzarle tutte, sono tutte masse traslucide, non abbiamo masse opache, quindi, queste masse, creano l'effetto di profondità, a livello uncisale, questo è l'effetto 3, enamel 3, che vado a utilizzare, come avete visto prima, al colletto, e poi ricopro con dentina, per avere un effetto di profondità, e poi vado a mettere l'effetto enamel 5, nei triangoli, nei vuoti lasciati dai mammelloni, quindi, mettendo questo, celeste, creo questi effetti, e vedete, questa è la prova che abbiamo fatto, del dente, vedete, i mammelloni come sembrano, un po' in superficie, un po', diciamo, in profondità, sono proprio gli effetti, che diamo, in maniera, diciamo, di colore diverso, gli smalti, abbiamo tre smalti, che non sono palescenti, però possiamo metterli, e non abbassano il valore, ricordatevi che, l'unica massa, che abbiamo noi a disposizione, in tutte le masse, in tutte le ceramiche, che abbiamo, che è simile, come effetto al dente naturale, sono, gli smalti, quindi, se io, non posso lavorare, con una ceramica, e non posso utilizzare, lo smalto, lo smalto, va utilizzato, e, va utilizzata, anche una quantità, abbastanza importante, se ho una ceramica, che utilizzo, eh, dove devo utilizzare, pochissimo smalto, perché mi abbassa il valore, io, non la prendo neanche, in considerazione, a me mi serve una ceramica, e questa è così, posso utilizzare smalto, e non mi abbassa, il valore, la scelta, fatta in questo, in questo caso, della pressata, M1, avete visto, inizialmente, c'era la scheda, l'M1, è un, pellet, abbastanza opaco, e, quando scelgo, eh, zirconia, e quando scelgo, scelgo, press, quando? Quando ho un po' più di spessore, quando il dentista ha preparato un po' di più, quando il moncone, non è troppo scuro, perché vedete, qui già io sono al limite, poi lo vediamo un po' più avanti, e vi renderete conto, che stiamo proprio al limite, quindi, scelgo press, e quando? Quando il pellet, lo spessore del pellet, ho minimo 0,4, quindi utilizzo, per coprire, l'M1, spessore minimo 0,4, e poi vado a stratificare, se sto al di sotto dello 0,4, preferisco utilizzare, lo zirconio, vado poi a ricoprire, con un effetto, EO4, vado a ricoprire, tutto il dente, vado a ricreare, diciamo, la forma anatomica del dente, e, l'accortezza che utilizzo in questa fase, che, dal terzo medio, fino al colletto, faccio una miscela di, EO4, più A2, quindi, che cosa vuol dire? Faccio una miscela del 10% di O4, lo miscello nella dentina, per dare, una dentina più profonda, abbiamo 6 smalti opalescenti, e qui vedete, le 4 corone che vedrete dopo, finite, vedete, l'effetto, è una ceramica opalescente, è una ceramica, che non è grigia, quindi, l'opalescenza serve, soprattutto, a definire un materiale, non grigio, questo è importantissimo, perché? Perché, come vi ho detto prima, domani, ma già oggi, noi andiamo a fare i frontali sempre più chiari, il paziente vuole i denti chiari, quindi, se abbiamo un materiale che è grigio, diventa, difficile realizzare quell'effetto, bianco, che piace tanto ai pazienti, la ricopertura completa, come vi ho detto prima, la vado a fare con, questo effetto, l'aureola, la utilizzo come ultimo passaggio, e la faccio, con, il 20% di O4, e la Power Dentina 1, dipende, se è un dente, giovane, utilizzo Power Dentina 1, se è un dente, anziano, posso utilizzare anche Power Dentina 5, che è un orange, quindi, però lo vado sempre a miscelare con, EO4, l'EO4 è, diciamo, un neutro opalescente, con cui io vado a tagliare, gli effetti dentinali, che avete visto prima, che sono nuovi, l'effetto, di E, e, utilizzo moltissimo questa massa, perché? perché mi serve proprio, come movimento, per dare effetti di profondità maggiori, e questo è il lavoro, che abbiamo fatto, velocemente, e questo è il risultato, vedete i mammelloni, si notano, cioè, pur avendo, pur avendo, un moncone grigio, sotto, però avendo lo spessore minimo, di 0,4, perché la press, l'MO1, per coprire, un moncone grigio, deve avere, quello spessore, e con la stratificazione completa, abbiamo raggiunto, un buon risultato, qui andiamo a stratificare, sempre con la press, andiamo a stratificare, quattro frontali, frontali, ho fatto, diciamo, un passaggio diverso, rispetto a, a quello, prima, perché, perché, seguendo, un collega, Giuseppe Di Prima, che lui fa il wash, con il glaze, l'ho, l'ho fatto anch'io, l'ho voluto copiare, per vedere come riusciva, quindi ho fatto, il glaze, e poi adesso, ho iniziato la stratificazione, con la power dentina, al colletto, power dentina al colletto, vado a coprire, come ho detto prima, noi abbiamo due masse fluorescenti, l'effetto NML1, e l'effetto NML3, che avete visto prima, con, in questo caso, ho utilizzato, l'effetto NML1, che lo utilizzo, diciamo, di norma, sempre per i colori, A e D, per i colori B e C, utilizzo l'effetto NML3, di copro, come avete visto prima, con dentina, è normale, già l'ho detto, i centrali per me, sono sempre leggermente più chiari, i laterali, leggermente più scuri, i denti più scuri, sono i canini, che troviamo, nel cavo orale, di copro, di dentina, e questa, è quello, che vi ho detto prima, il passaggio che voglio, tra l'estetica rosa, e quella bianca, il passaggio deve essere naturale, e con quella stratificazione, con la Power Dentina, con l'effetto NML1, e la dentina ricoperto, ottengo questo risultato, vado a fare completamente, con la dentina, i vari mammelloni, i vari tagli, quello che dicevo all'inizio, la contrazione, è importantissima, perché? perché serve, serve, soprattutto nei frontali, ho già i contatti, in prima cottura, dovete avere i contatti, in prima cottura, questa è soltanto, per didattica, questa foto, io faccio tutto insieme, proprio per farvi capire, come esce la dentina, utilizzo sempre due dentine, una del colore, che ha scelto il medico, il clinico, e una più chiara, a livello oncisale, ma l'importante è la contrazione, sono materiali che si contrae, farò 5-6 cotture, per dare già il punto di contatto, io in prima cottura, devo già aver stabilito, la zona di contatto, nei frontali, questo è quello che si ottiene, nella prova, che abbiamo fatto, vado a mettere, le varie masse, traslucenti, grigi, e trasparenti, l'E4 è il trasparente, nei vari triangoli, che si creano tra le guglie, o tra i marmelloni, li copro di smalto, e qui metto smalto, come vi ho detto prima, non ho paura, di ingrigire il mio lavoro, perché questo smalto, questa ceramica, è stata calibrata, molto bene, vado a fare i lati, a proposito di lati, poi usciranno a breve, in collaborazione, in Desply, Sirona e Dentro Club, farò un corso gratis, sulla forma, e sulla stratificazione, semplificata, e partirà a metà giugno, il 17 giugno, proprio perché vogliamo aiutare, visto il momento, che stiamo attraversando tutti quanti, che non è un momento, semplice, quindi vogliamo stare insieme a voi, e condividere questo momento, e quindi abbiamo fatto questo progetto, che partirà il 17 giugno, vi copro tutto di opalescente, come avevo detto, e questo è il risultato che si ottiene, questa è la prova che abbiamo fatto, la prova con la paziente, vedete come è luminoso, il materiale, e non è opaco, questo è il dente naturale, questo è il lavoro fatto da un collega, in precedenza, e questo è il lavoro fatto da noi, guardate la differenza, un materiale opaco, e un materiale luminoso, il materiale, il lavoro deve uscire dal laboratorio, e non deve più rientrare, questi sono due elementi fatti in zirconia, due frontali, guardate le power dentine, già ho dato il colore, già ho dato il colore al lavoro, che devo realizzare, al colletto, ho messo un po' di grigio, al zona incisale, e questa è la prima cottura, che avete visto all'inizio, vedete, già ho i contatti, ho stabilito già tutto, ho fatto tutto, la certificazione, come utilizzo sempre io fare, tutto insieme, questo è il lavoro finito, e questa è una, per l'estetica, questi lavori sono stati sempre fatti, non voglio ripetere, in un corso, di un giorno, questo è il centrale, che avete visto all'inizio, che era stato fatto in metallo ceramica, e poi l'abbiamo fatto in zirconia, per farvi capire, per farvi vedere, qui si nota molto bene, già il moncone, che è grigio, sotto, vedete già come va a influenzare, il colore, del tessuto, guardate qui come cambia leggermente, questa è la prova, che abbiamo fatto, dell'elemento, questo è il moncone, la prova, e il lavoro, terminato in bocca, tutto quello che si fa oggi, e quello che si farà domani, soprattutto, sarà un lavoro veloce, e fatto bene, e se non abbiamo, la tecnologia che ci aiuta, e un materiale estetico, che ci permette di raggiungere, semplicemente, e soprattutto facilmente, diventerà difficile, il futuro, quindi oggi, ricordatevi che è importantissimo, le scelte che facciamo oggi, andranno a determinare, il nostro futuro, io con questo, ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, e grazie a tutti, grazie a tutti, e buona serata, la prima domanda, se stratifico una cappetta, con un dentino effetto, e poi ho la necessità, di rendere più luminoso il dente, posso usare, l'enamel effetto, si 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 può utilizzare, tranquillamente, l'importante, è che il passaggio, deve essere fatto, power dentina, e effetto enamel 3, e dentina, poi possiamo utilizzare, tutto quello che vogliamo, senza problemi, è una ceramica, che ti fa lavorare, con semplicità, non è una ceramica difficile, è una ceramica semplice, diciamo, è una ceramica per sant'occhi, ecco, allora, il grigio compresso, come massa ceramica, come lo crei? no, quello che è, già stato presentato, per Stein, allora, il grigio compresso, io lo creo, i supercolori, gli universal Stein, possono essere, sia, usati come pittura esterna, ma possono essere, anche utilizzati come, io li utilizzo spesso, quando ho poco spazio, quando ho poco spessore, li utilizzo, all'interno della massa, quindi, prendo, il grigio, complesso, e lo vado a miscelare, insieme, all'EO4, e ottengo, il grigio complesso, per stratificazione, con questa risposta, possiamo considerare, concluso l'incontro, il relatore, risponderà comunque, a tutte le domande inviate, ringraziandovi, per la vostra partecipazione, vi ricordiamo, che è possibile, consultare, il calendario completo, degli eventi online, organizzati dalla, Desplaisiron Academy, sul nostro sito web, Desplaisirona.com, ringraziamo ancora, il signor Santocchi, tutti i partecipanti, e una buona serata, da parte di Desplaisirona, arrivederci. Grazie, grazie.